Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui parleremo di un argomento curioso e interessante tratto da questo meraviglioso libro consigliatomi da quella maledetta carogna del nipote Venessia 90 il quale mi fa spendere soldi ma me la pagherai, dicevo tratto da ruote nel deserto di Vendrame e Bondesanne, teatri operativi, mobilità e logistica del regio esercito in Africa settentrionale, una storia abbastanza curiosa. Come vi ho già accennato in un altro video, c'era un problema, diciamoci la verità. L'Italia, sorprendentemente, sorprendentemente ma non troppo, aveva trascurato una cosa estremamente importante, ovvero sia il cartografare, il fare rapporti geologici, il tracciare carte geografiche il più possibili accurate dell'entroterra libico. Lo si riteneva non necessario perché, come dire, tanto bastano le ricognizioni aeree, bastano le valutazioni, non serve una... perché chi volete che passi da quelle parti? Gli inglesi. Ci sono passati gli inglesi. Con Long Range Desert Group, che avevano carte precisissime, complete di analisi geologiche del terreno, completo di slivelli, di quote, insomma, delle carte geografiche che i nostri soldati, che i nostri ufficiali, cercavano in ogni modo possibile di procurarsi perché erano molto migliori delle nostre. Perché? Perché noi avevamo trascurato questa componente fondamentale della preparazione alla guerra, ovvero sia il cartografare, adeguatamente, il terreno in cui dovevamo combattere, il territorio della nostra colonia. Siamo stati lì trent'anni, non abbiamo cartografato l'interno della Libia. Perché? Bastano le ricognizioni aeree, bastano le mappe che tracciamo con la sorveglianza aerea. Chi volete che passi in quel mare di Sat? E che cosa facevamo allora? Invece di destinare risorse a questa oscura ma preziosissima attività, ovvero sia la mappatura del territorio, la mappatura del nostro territorio coloniale, che cosa facevamo noi? Che cosa faceva Balbo? Che cosa avrebbe fatto poi Graziani? Balbo organizzava il Gran Premio Motociclistico e Automobilistico di Tripoli, Balbo pensava ai suoi viaggi nelle colonie vicine, Balbo pensava a promuovere il turismo nella colonia, Balbo non ha mai pensato a organizzare una seria campagna di mappatura geografica, topografica, orografica e geologica del territorio libico. ci pensarono gli inglesi, che vi devo dire signori, che vi devo dire? Quindi cosa facevamo noi? Costruivamo queste cose. Eccole qua. Il famoso, famigerato e monumentale Arco dei Fileni. Costruivamo questi monumenti, spendevamo soldi per costruire questi monumenti, spendevamo soldi per l'immagine, spendevamo soldi per cose che non servivano una mazza. detto va bene i giganteschi cippi alti tre o quattro metri che servivano per segnalare la viabilità. Quello è un conto, quelli avevano la loro utilità sinceramente, che questi cippi enormi che segnavano la via avevano un perché, ma lasciare un potente segno della civiltà italiana e fascista nel territorio delle nostre colonie. Che poi questo arco è diventato semplicemente oggetto della curiosità degli inglesi quando facevano avanti e indietro lungo la balbia, poi dopo sono andati solo avanti verso la Tunisia, ma che cavolo ci volete in pratica l'arco dei Fileni, ci dicono Bondesan e Vendrame, ci dicono, ci raccontano la storia dell'arco dei Fileni. Allora, la balbia, la grande strada litoranea libica che si snoda dal confine tunisino a quello egiziano, fu inaugurata dallo stesso Mussolini il 16 marzo 1937 con una cerimonia svoltasi nei pressi della baia di Ras Lanuf nel golfo della Gran Sirte, il sito che nel periodo coloniale segnava il confine amministrativo tra Tripolitania e Cirenaica e che, secondo la tradizione nell'antichità, ospitò le aree dei Fileni, in occasione della succitata cerimonia, divenne sede di un grande arco marmoreo, eccolo qua, questo enorme arco marmoreo qui che vedete. Eh? Bello, eh? Sì, bello. Bello. Ma qua...